Con il presidente Lino Chilese nel post-match di FC Arzegnano Valchiampo Dolomiti Bellunesi. Presidente, grazie mille a lei la parola. Grazie a te Chiara. Sì, è stata una partita difficile, una partita tattica e praticamente molto molto importante per noi. Abbiamo ottenuto un risultato molto importante, rotondo, per merito dei ragazzi. Sono molto contento anche per l'esordio di Parise che dopo un lungo infortunio è ritornato tra di noi. Diciamo che nonostante il mese di gennaio con il Covid e tanti infortuni che abbiamo avuto stiamo cercando di recuperare un po' tutti quanti i ragazzi. Dunque sono molto molto contento di questa vittoria. 3-0 il risultato finale nella ventesima giornata. Il girone di ritorno da giocare, questa era la terza giornata. Presidente, qual è il messaggio che vuole dare alla squadra? Niente, non abbiamo fatto ancora niente, si può dire. Stiamo facendo un campionato importante. Siamo in testa della classifica, però il nostro obiettivo era quello di fare bene. Non pensavamo di essere qua, però vogliamo starci. Sappiamo che è una guerra ogni domenica perché vediamo le squadre che giocano contro di noi, contro la prima in classifica. È sempre una guerra ogni domenica, sempre una battaglia. Dunque questo sarà ancora il proseguo, già da domenica a Cartigliano sarà una grande battaglia contro una squadra che sta facendo molto bene da anni in Serie D, con un mister molto importante. Dunque già domenica dobbiamo pensare, già domani a domenica che sarà una battaglia. Con le parole del Presidente quindi apriamo le porte al derby Cartigliano FC Arzegnano Valchiampo. Presidente, grazie mille. Grazie a te Chiara. Grazie.